1 vai sinistra 4 per destra 4 lunga lunga chiude alla siepe 20 destra 5 subito destra 4 lunga e sinistra 3 80 al muro sinistra 5 in destra 3 non tagliare subito tornate sinistro 50 alla casa sinistra 3 50 destra 4 subito destra 3 subito attenzione innesto sinistra 4 stringe per sinistra 5 per ritarda destra 4 chiude subito sinistra 3 lunga apre sconnessa apre 5 occhio all'esterno 100 vista agli alberi anticipa destra 3 subito destra 2 chiude apre 100 all'ultimo albero attenzione sinistra 4 diventa subito 2 tieni 30 ritarda tornante destro tieni non tagliare subito sinistra 4 per alle gomme destra 5 e sinistra 2 tonda chiude 50 ritarda molto destra 2 sporco sconnessa chiude 30 sinistra 6 sconnesso 150 sconnessi ai cartelli frena 10 sinistra 2 diventa 3 lunga subito molta attenzione ricorda aggancia destra 3 più punta fuori 20 ritarda sinistra 3 lunga chiude 80 chiude 80 ai cespugli sinistra 5 in al cartello stai a sinistra 20 sconnessi all'albero ritarda destra 2 apre per sinistra 3 in ritarda destra 2 lunga gira aggancia per sinistra 3 sinistra 30 sinistra 4 in ritarda destra 4 diventa subito 3 aggancia subito attenzione destra 1 innesto in ritarda sinistra 3 diventa 2 alle zebre 150 a vista al jersey 200 a vista molta attenzione frena e allo specchio tornante sinistro ritardalo 50 ritarda destra tornante destro 100 al giallo sinistra 6 per destra 5 in ancora destra 5 subito al cartello destra 6 30 attenzione frena innesto sinistra 2 in sinistra 5 gira 300 sinistra 5 gira 300 sinistri giù tutto alla rete sinistra 6 piena altri 150 sinistra 6 luca tieni subito ritarda destra 3 diventa subito 2 chiude e apre gira per sinistra per sinistra 6 per al cartello destra 5 sudosso 350 vista sinistra 6 piena 100 alla casa sinistra 5 sudosso per destra 5 50 sacrifica sacrifica destra 3 occhio subito sinistra 3 50 alla rete destra 4 due tempi 300 vista all'albero ritarda sinistra 5 lunga lunga tieni 5 lunga lunga tieni subito al palo destra 5 al palo destra 5 diventa 4 50 vista al palo sinistra 4 per alla staccionata attenzione sinistra 4 lunga pende 30 attenzione sinistra 6 subito ringhiera destra 2 80 attenzione tra le case destra 3 non tagliare subito sinistra 4 tieni sconnessa in destra 4 non tagliare apre vai 100 al cartello sinistra 4 lunga chiude e alla fine apre 200 vista esci forte in fondo al cartello ritarda tornante destro ritarda tornante destro ritarda tornante destro al rail attenzione ritarda sinistra 2 lunga apre ritarda sinistra 2 lunga apre subito destra 6 50 destra 6 50 ancora destra 6 50 al palo sinistra 4 più tieni per ritarda volto destra 4 più lunga chiude 50 destra 5 destra 6 100 vista al secondo palo destra 5 diventa 3 più al rosso 50 sinistra 4 più tieni subito destra 5 50 attenzione stai a sinistra attenzione stai a sinistra innesto destra 3 apre non tagliare vai in sinistra 6 piena 80 grande anticipo a destra 4 subito sinistra 4 100 sconnessi ai cespugli sconnessa a destra 3 gira per sinistra 5 sinistra 5 vai 100 destra sconnessi ritarda a sinistra 4 tieni in ritarda tornante destro 250 sconnessi ai cespugli sinistra 5 lunga subito subito al blu ritarda destra 2 non tagliare 50 sinistra 5 50 destra 6 30 al blu ritarda tornante sinistro apre vai 50 destra 6 in sinistra 5 subito destra 4 più più apre vai 80 allo specchio destra 4 chiude non tagliare 80 vista chiude al cartello ritarda sinistra 3 sporco aggancia subito destra 5 in allo specchio sinistra 3 50 condosso alle case destra 5 non tagliare in destra 4 più in sinistra 5 30 al cartello sinistra 5 chiude subito destra 5 scende 50 attenzione ai cespugli ritarda sconnessa destra 2 subito molta attenzione molto sporco sinistra 2 occhio le buche gira lunga in destra 5 80 al palo destra 5 50 bosso in sinistra 5 per destra 4 in ancora destra 4 in molta attenzione sporco buche 50 destra 3 20 ancora destra 3 fine fine ok 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 ok